Allora, la balla degli italiani che non vogliono lavorare, secondo me non è vero, però libero nelle sue provocazioni, lo chiama disastro Italia, non c'è più nessuno che sappia fare un mestiere o che abbia voglia di farlo, cercasi lavoratori, ma non se ne trova nemmeno uno. A Venezia, datemi però l'articolo, a Venezia non riescono a trovare qualcuno che faccia il panettiere, in calo anche gli impagliatori, meno 25,2% e falegnami, meno 23,2%, bumper, parrucchieri, giardinieri e venditori di cibo da strada. La solita storia di questi italiani che non vogliono fare più certi lavori. E poi c'è questa classifica, i dati sono forniti dalla CGA di Mestre sui lavori che nessuno vuole più fare. C'è una tabella di piccoli armatori, magliai, riparatori audio-video, rostrini mobili, produttori di poltrone di divani, pellicciai, cornicciai, impagliatori, produttori, calano tutte queste professioni qua. Nessuno vuole più lavorare. Tutto questo in contrasto con un paese invece che soffre come, saluto Mirko Rota della FIOM CGL, gli faccio anche gli auguri che oggi è il suo compleanno, il compleanno che ha passato a lavorare e saluto ancora collegati con me, li avete visti a inizio della serata, i lavoratori della Marcegaglia. Oggi è successo questo bruttissimo fatto di un operaio che è salito sul tetto e ha minacciato di darsi fuoco. Loro vengono trasferiti, minacciano di trasferirli a 100 o 150 km di distanza o di licenziarli. Oggi uno di quei signori lì che vedete collegati ha tentato di darsi fuoco, loro stanno occupando quello spazio dell'azienda. Se allarghiamo l'inquadratura vediamo anche che hanno messo i loro striscioni e tutto quanto. Prima abbiamo sentito le loro ragioni. Eccoli lì, in diretta appunto con i loro striscioni, la loro lotta che continua anche in una serata come questa. Allora Mirko, sta roba qua ti torna o è solo una provocazione giornalistica come credo? Secondo me non c'è nulla di reale in questo articolo perché gli italiani per la situazione che c'è in questo paese sono davvero costretti a fare qualsiasi lavoro pur di lavorare, pur di poter vivere. Quindi io anche per le esperienze che conosco, che ho seguito, abbiamo un sacco di lavoratori che ormai non hanno nemmeno gli ammortizzatori sociali che avevano una volta e sono proprio costretti ad accettare qualsiasi lavoro. Dire che gli italiani rifiutano certe professioni dal mio punto di vista è una bufala clamorosa. Simone. Sono assolutamente d'accordo, non capisco su quali dati si basi quest'articolo. Io domani potrei mandare 300 persone disposte a fare ognuno di quei lavori in qualsiasi parte d'Italia. E parlo di italiani che veramente hanno bisogno di lavorare. Silvia. Sono dati della CGA di Mestre. Sì, no, per carità, però mi fanno anche riflettere alcuni citori tipo produttori di sedie. Cosa vuol dire produttori di sedie? Non è che domani uno si mette, apre un'azienda con tutto il capitale iniziale che ci vuole per produrre sedie a livello industriale. Cosa vuol dire la sedia a livello artigianale? E chi te la compra oggi con la realtà? Mi sembra, non so, mi sembra sicuramente un dato molto strano. I ragazzi della Marcegaglia, me li date qui sul monitor. Tutto questo per dire che nell'insieme delle statistiche, nell'insieme delle statistiche, mi state sentendo, vero? Mi state sentendo? Sì, sì. No, dicevo, nell'insieme delle statistiche... Sì, sì. Ecco, aspetta che voglio collegarmi al discorso. Nell'insieme delle statistiche, dei lavori che nessuno vuole fare, qui la storia è che sette di voi o si trasferiscono a 150 chilometri per poter lavorare o vengono licenziati. E allora, nelle statistiche, quei sette che stanno lottando per avere il posto di lavoro vicino a casa, vicino alla famiglia, passano per dei fancazzisti. Finiscono nelle statistiche che leggono Renzi e Compani come i fancazzisti, quelli che non vogliono lavorare. Spieghiamola sta cosa, che ci sono anche le prese per il culo. Spieghiamolo. Spieghiamolo. Allora, intanto, perdonami, devo fare una precisazione, che oggi nessuno ha tentato di darsi fuoco, ma ha minacciato di farlo, che sono due cose diverse. È salito sul tetto, ha minacciato questa cosa, probabilmente ha ottenuto gli obiettivi che si era a posto e poi è usceso di sua spontanea volontà. E nessuno gli ha impedito di fare quello che ha deciso di fare. Faccio questa precisazione perché questa cosa qua, come dire, è una cosa sensata che ha fatto questo lavoratore, non vorrei che passasse come il gesto di follia al portanto. Non è un'esaltazione. Lui ha pensato che per rompere il muro di silenzio che c'era, bisogna minacciare una cosa di questo tipo. Hai fatto bene a precisarlo che è importante, perché siccome qua ogni cavillo lo prendono e se lo girano come vogliono, hai fatto bene a precisarlo. Vai avanti sul resto. Poi, insomma, a parte questa cosa qua, adesso ti voglio dire le statistiche e non le statistiche. Il problema è che i posti di lavoro sono una cosa seria. Se uno per andare a lavorare, come succede tra l'altro probabilmente a tanti giovani lavoratori, deve spendere i soldi del suo salario dentro la macchina, quello non è un lavoro ma è schiavitù, allora noi ci devono spiegare se stiamo rimasti al tempo negli schiavi o siamo in un'epoca in cui uno lavora per vivere e non vive per lavorare. Perché secondo la Marcegaglia e secondo tutte le aziende che in Italia non sono neanche soddisfatte del job sack, della fornera, di tutte queste riforme che hanno fatto contro di noi, quindi ci devono spiegare se vogliono degli schiavi o vogliono dei lavoratori. Ormai il salario dei lavoratori è già ridotto all'osso e forse non riusciamo manco a mantenerci fino alla fine del mese. La storia della seconda e della terza settimana è una cosa che viene trattata da diversi politici a uso e consumo nelle loro campagne elettorali o quando devono partecipare ai talk show. Per cui io voglio sapere, da qui pensa che qualcuno di noi è un fancazzista o altri che si rifiutano ad andare a lavorare a due o trecento chilometri da casa perché magari si devono spendere pure il viaggio. Siamo arrivati alla schiavitù, questi qua non ci vogliono manco più dare da mangiare. E quello che abbiamo fatto noi in questi giorni è un messaggio di rivolta e di opposizione, di ribellione. La parola ribellione significa ritornare al bello, di ritornare al bello di avere la dignità. Noi diciamo a tutti i lavoratori di seguire il nostro esempio che non è che devono fare tutto quello che abbiamo fatto noi ma quando cercano di metterci sotto i piedi ci dobbiamo ribellare perché sennò poi appunto arriva il politicocchio di turno della Lego di che sai che quale altro cavolo di partito che ci viene a dire che siamo pure dei fancazzista e non ci abbiamo voglia. Dobbiamo rialzare la testa. Se teniamo la testa basta, ne continuiamo a dire di ogni su di noi e su di noi si costruiscono le loro fortune. Simone, ecco facciamo vedere questo applauso. Simone da Roma. Assolutamente d'accordo. Le storie sono tutte uguali, scusami Simone, le storie sono tutte uguali e anche la presa per il culo che viene fatta a questa gente perché quando sono in campagna elettorale e vanno lì a portare solidarietà poi girano il culo e non li rivedi più. Sto parlando dei politici. Simone. È proprio così, finite spente le luci della campagna elettorale persone che fino a una settimana prima erano a rischio posto e rischiavano veramente di non poter più portare da mangiare ai loro figli vengono dimenticati perché non fanno più notizia quindi non servono più ma queste persone continuano a starci e io devo dire piuttosto che andare sui tetti e minacciare di darsi fuoco per accendere i riflettori su queste situazioni iniziamo a dare qualche schiaffo educativo agli amministratori delegati facciamo notizia uguale Silvia ma non dimostriamo debolezze ecco oggi sono sempre di più i cittadini italiani che non ce la fanno più e che purtroppo questi gesti li fanno sul serio a Roma autisti della DPL è un'azienda pubblica di trasporto pubblico non percepiscono stipendio da otto mesi e se non vanno a lavorare sono dei fancazzisti assolutamente no non sono dei fancazzisti sono persone che stanno lavorando gratuitamente da otto mesi e fanno di centinaia di autisti che non possono portare da mangiare i loro figli nel mondo che ho in mente il problema non è l'azienda che sceglie di cambiare la città dove esercitare la propria attività lavorativa il problema è che a queste persone non è data la possibilità di trovare il giorno dopo un altro posto di lavoro dove risiedono dove magari hanno comprato casa magari hanno un mutuo sulla casa nella quale risiedono con i figli hanno una famiglia ma questa cosa a parole è bellissima allora il punto non è l'azienda che decide secondo me di andare, di spostarsi da dove sono loro ad Alessandria quando voglio dire mio padre era piccolino è iniziato a lavorare finiva di lavorare in una carrozzeria faceva cento metri ne trovava un'altra dove poteva lavorare ma cosa dovrebbe fare questa gente? rassegnarsi Silvia? no ma il problema secondo me perché bisogna anche capire che cosa noi chiediamo dalle istituzioni noi alle istituzioni va bene possiamo chiedere che questa azienda non si sposti ma quello che secondo me la politica dovrebbe fare è rilanciare il mercato del lavoro in maniera tale che le persone possono trovare un altro luogo fermi tutti Mirco vieni con me quella signora colorata no no aspetta dai il microfono a questa signora con l'abito colorato dietro di te quella signora con l'abito colorato dietro di te prego dalle il microfono che vedevo che smadonava un po' prego tutto quello che vuole tutto quello che vuole signora prego tutto quello che vuole tutto quello che ha dentro Prego, tutto quello che vuole, tutto quello che ha dentro. In Italia di tutti quanti. Prima sentivo delle affermazioni che in qualche modo mi lasciano basita perché chi ci rappresenta non si deve assolutamente permettere di banalizzare quelle che sono le condizioni materiali e sociali dei lavoratori. Questa avvertenza ha un valore aggiunto perché non riguarda soltanto sette lavoratori ma è proprio un laboratorio di solidarietà e si dimostra che il lavoro, il diritto al lavoro è proprio un terreno, un laboratorio politico anche per i cittadini comuni. Poi continuo con lei, mi scusi, Mirko Rota, Mirko Rota perché io ho scoperto di questa storia che pensavo risolta, ho scoperto leggendo il Facebook di Mirko Rota perché la FIOM evidentemente fa il suo lavoro e segnala le cose, quindi è arrivato nel mio telefonino questa roba qua e io ho deciso di collegarmi. Mirko dimmi tutto, di quello che vuoi. Stiamo dicendo le cose un po' fuori luogo. L'azienda non c'è più, si è già trasferita ad Alessandria, però ci sono sette lavoratori che per mille ragioni non possono andare a 110 km. Stiamo parlando di un'azienda che ha stabilimenti in provincia di Bergamo, in provincia di Lecco, a Corsico e a Lainate. Noi gli abbiamo detto ma anziché assumere in questi stabilimenti tra un mese, due mesi e tre mesi, prendi questi sette lavoratori anziché trasferirli a 150 km. E qui non è che noi chiediamo un posto di lavoro nel pubblico, non chiediamo questa cosa, chiediamo però la politica di intervenire. Stiamo parlando di un grande gruppo che ha una presidente che è stata presidente degli industriali, di Confindustria, stiamo parlando di una che è stata nominata dal governo Renzi come presidente dell'ENI e di un'azienda che vuole comprare l'ILVA. Cioè Marcegaglia vuole comprare l'ILVA a Taranto con 16 mila dipendenti e non riesce a ricollocarne sette. Ma secondo me c'è qualcosa che non funziona in un paese del genere. Cioè io, imprenditore, dico voglio comprare l'ILVA, 16 mila dipendenti e gli pongo un problema, ricollo che i miei 4, 5, 6 lavoratori, hai avuto due anni di tempo perché in questi due anni di tempo c'è stata la cassa integrazione e questa cosa non lo si può fare. Cioè uno vuole comprare un'azienda con 16 mila dipendenti e non ne sa ricollocare sette. Secondo me se ci fosse una politica seria direbbe questo imprenditore non può comprare l'ILVA. Prima della pubblicità ti volevo fare un'altra domanda, ci parlava questa ragazza con il vestito colorato perché poi io i nomi non li conosco perché li ho conosciuti stasera. Quindi la ragazza... Grazie per il ragazzo. Ecco, come ti chiami ragazza con il vestito colorato? Come ti chiami? Daphne. Daphne, ecco. Ecco, Daphne ci parlava di una cosa che secondo me è molto interessante. Daphne ci diceva, noi siamo qua per solidarietà. Allora i problemi, e per aiutare nella lotta, i problemi di questa gente stanno diventando i problemi di tutti e questo è molto importante. È il risveglio di una consapevolezza di un certo tipo, che siamo tutti nella stessa barca, che oggi capita a te ma domani potrebbe capitare a me, ma se gliela fai capitare a tutti la prendiamo nel culo tutti. È questo, no, la traduzione. Vorrei dire anche questa cosa. Di fronte a questi uffici c'è la parrocchia del quartiere. Il prete è stato con noi estremamente solidale, dicendo che quando tu perdi il lavoro, perdi la dignità, e tutti i giorni gli porta un pasto a questi sette dipendenti. Domenica durante la messa ha fatto una raccomandazione a tutti i cattolici, a tutti i fedeli, dicendo sosteniamo questa avvertenza. Il punto vero è che manca la politica, manca la sinistra che dica a questo imprenditore. Tu non puoi fare impresa in questo paese sulla pelle dei lavoratori, perché questo imprenditore ha ancora un sito a Sesto San Giovanni, e non è che lo dà in beneficenza. Ha chiuso lo stabilimento e ovviamente farà un'operazione immobiliare. Questo imprenditore in questi anni, non è che ha fatto la carità, ha utilizzato gli ammortizzatori sociali, ha chiuso diversi stabilimenti, Taranto, sta chiudendo a Pordenone, sta facendo questa operazione. Cioè è un imprenditore che sta creando dei problemi alla collettività, al di là di questi sette dipendenti. Ma io non sto dicendo che in campagna elettorale prima c'erano, adesso non c'erano, non c'erano neanche prima, prima del voto. Abbiamo dovuto telefonare noi al candidato sindaco di centro-sinistra per farsi, diciamo così, per farsi a cose di questa avvertenza. Adesso c'è stata l'elezione, c'è il sindaco, perché il sindaco non prende in mano questa avvertenza, che è un segnale, non ai sette lavoratori, a tutti quei lavoratori milanesi che rischiano il posto di lavoro e che hanno un... Scusami, è anche una speranza per... Dopo ti faccio parlare, Mirko, è anche una speranza per gli altri che si vengono a trovare in queste situazioni, perché quante situazioni come questa, delle quali non si parla, ci sono? Ma l'ho detto l'altra volta, potrei fare un elenco lunghissimo di situazioni dove noi o sono stati licenziati o rischiano il licenziamento. Dicevo a Mantua abbiamo la Belleli, 300 dipendenti, ne abbiamo quasi 200 a Sesto San Giovanni con General Electric. Cioè abbiamo una situazione davvero esplosiva. Allora, da questo punto di vista, noi non è che vogliamo favorire la destra e la sinistra, però vorremmo incalzare la politica, perché non è che il tema principale... Va bene. ...è la casa popolare. Il tema principale in questo periodo è che non c'è più il lavoro. Lo sapevo, girando, ma è bruttissimo quello che mi confermi tu. La politica non c'è più ed è un guaio, c'è solo in certi momenti. Torniamo dopo la pubblicità con Silvia Sardone, Carabella e tutti quanti, perché in tanti devono ancora parlare. Accomodati Mirko, a tra poco. Allora, 02386 02359, se ce la facciamo passo le vostre chiamate in diretta. Siamo partiti da questo articolo di Libero, tutti i mestieri che nessuno vuol fare e abbiamo visto che qua poi ci stanno altri problemi e siamo alla Marcegaglia con gli operai che mi avevano chiesto la parola, ma prima ancora Silvia Sardone di Forza Italia e poi torno alla Marcegaglia e vado anche a Roma da Carabella. Due cose velocissime. Una, a me sinceramente non piace che lì sia stato contattato da parte loro un cagnato sindaco e non l'altro. A me sta roba qua, perché se è un problema è un problema di tutti, quindi tu chiami quello di centrodestra, quello di centrosinistra, il grillino, semmai loro avrebbero dovuto chiamare tutti se è un problema. Dopodiché, siamo d'accordo, Marcegaglia evidentemente che va a Bracetto Correnzi, ha sicuramente la possibilità di ricollocare sette persone. E quindi lo deve fare, va bene. Però possiamo dire che l'imprenditore è libero di A, decidere cosa vuole acquistare, come e quando. B, decidere di vendere se in alcuni contesti non trova utile all'impresa rimanere, perché altrimenti decidiamo che statalizziamo tutte le aziende, decide lo Stato per le aziende come devono operare, ok, è sbagliato se utilizzano gli ammortizzatori sociali per scopi loro. Allora, lì Fiat, devo dire che una per tutte dovrebbe insegnare a tutte come si abusa dei soldi pubblici. Ma se questo non avviene, l'imprenditore è libero, lo Stato dovrebbe garantire invece l'opportunità di lavoro nei diversi contesti. Marcegaglia, avete sentito questo ragionamento? Che ne pensate, ragazzi? Però è così, ragazzi. Guarda, allora, silenzio! No, lasciali fare! Vorrei fare una precisazione rispetto a quanto diceva prima la signora Cardona. Sardone. Sardone, come si chiama lei? Ma piani come vuoi. Ragazzi, allora, noi abbiamo inviato una lettera aperta al Ministro del Lavoro e al Primo Ministro Matteo Renzi e poi abbiamo mandato una lettera aperta uguale sia al candidato Beppe Sala che al candidato Parisi. Il candidato Beppe Sala, siccome siamo riusciti a individuare il fatto che un giorno interveniva in radio, siamo riusciti a contattarlo divertamente perché ascoltavamo la radio. altrimenti correvamo appresso a queste ombre e non riuscivamo a parlare con nessuno. La lettera che l'abbiamo scritta, Sala Lavine ci ha risposto. Stasera ha anche mandato qui un consigliere a dirci che loro, questa cosa qua la dico perché mi sembra onesto, Marco non lo sa perché è successo in questi minuti prima della trasmissione, è venuto qui un consigliere che dice che loro sono disponibili a sedersi a tavolo per trovare soluzioni assieme a noi. Però queste cose qua non significa veramente. Io voglio dire una cosa, in Italia ci hanno fatto credere che con le privatizzazioni si risolvevano i problemi del mondo, con le privatizzazioni abbiamo 8 milioni di persone che non possono accedere al servizio sanitario, abbiamo un servizio pulacqua che è gestito nella maniera in cui viene gestita, non abbiamo più una nostra compagnia aerea in bandiera, abbiamo le ferrovie che costano un sacco di soldi e per viaggiare ti devi fare il mutuo e alla fine chi ha pagato queste privatizzazioni sono stati i lavoratori, le classi povere e chi ci ha guadagnati sono stati i manager e le aziende a cui gli sono state date. L'ILBA è una di queste aziende, l'ILBA è un'azienda pubblica, è arrivato Riva e l'ha distrutta e adesso arriverà qualcun altro che la distruggerà ancora di più e il gruppo Marcegaglia Arcelon Mittel ha già detto che di quei 16 mila lavoratori un terzo se ne devono andare a casa per far ripartire quell'azienda. Vi rendete conto che la ricchezza dei padroni si fa sulla testa dei lavoratori? Io sono comunista, statalizzerei tutto, a qualcuno lo manderei a lavorare da qualche altra parte. Già che lo chiami padroni si capisce che è un'idea di azienda se chiami padrone l'imprenditore che mi dispiace è lontanissima ahimè da quello che avviene. Spesso non sarà il caso di Marcegaglia che ti informo a Braccetto Correnzi non sarà il caso di Marcegaglia che ti informo a Braccetto Correnzi ma l'imprenditore medio, sono piccoli, medi imprenditori perché l'Italia è piena di persone così che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese perché oppressi dallo Stato che da loro chiede solo burocrazia e tasse. Simone! Questa è la realtà. Simone! Ma a questa chi la paga? A questa chi la paga? La paghi tu! Scusa Simone, la paghi tu perché è un'eletta dell'istituzione. Di chi la vede dal punto di vista dell'imprenditore e di chi? Ancora non ho preso i primosti segni. Vai vai Simone! La vede dal punto di vista degli operai. Qui c'è da usare il buonsenso. Io sono un piccolo imprenditore ma qui c'è da usare il buonsenso. Ci sono sette operai che vanno ricollocati e se questa azienda ha delle sedi più vicino dei 150 chilometri, ricollochiamoli vicino e basta. Un imprenditore deve anche assumersi la sua responsabilità di imprenditore sui suoi dipendenti. Una cosa a me fa ben sperare. è che finalmente ci siamo resi conto che lo Stato siamo noi, abbiamo noi il potere decisionale e per noi, intendo noi cittadini, sono sicuro che questi ragazzi non mollano e fanno bene a fare quello che fanno e danno il mio massimo appoggio da tutti i punti di vista e riusciranno ad essere ricollocati vicino casa. Parliamo di ILVA. L'ILVA è un'azienda in cui gli operai debbono scegliere se morire di fame o morire di tumore. Ecco, questa è la fotografia dell'Italia d'oggi. La Marcegaglia sta acquistando un'azienda dove gli operai o non lavorano o muoiono. Purtroppo la maggior parte sceglie di lavorare a 1200 al mese. Dobbiamo risanare il nostro paese da nord a sud. E lo facciamo soltanto se ci mettiamo in testa che siamo noi a comandare. Mirko. No, volevo dire a Silvia Sardone che la roba paradossale di questa vicenda è che qualche giorno fa, in piena campagna elettorale, sono stati i sette lavoratori che hanno il problema del lavoro a dover cercare la politica, non il contrario. Cioè io mi candido a governare... No, ma non mi rivolgo direttamente a te. La politica, c'erano centinaia di consiglieri che si candidavano, ma andavano da tutte le parti, meno dove c'era il problema del lavoro. Ivi compreso l'avvertenza Marcegaglia, che conoscevano tutti. Allora c'è un punto che io metto al centro di questo ragionamento. Non è vero che la conoscevano tutti. Come? Era sui giornali. Era sui giornali, scuola. Era sui giornali, scuola. Mi chiamavo, non arrivavo. Ma anche oggi, anche oggi, la politica non passa in via della casa. No, è che se voi la strumentalizzate per andare a sinistra è diversa. Perché se lui casualmente sentiva Radio Popolare e guarda caso, contatta solo stare perché lo vuole. Sì, ma io non lascio perdere la mia parola. Ma il tuo partito domani si impegna o non si impegna su questa merceda? Ma il tuo partito si impegna o non si impegna? No, perché non lo ha capito. Se si impegna o non si impegna. Scusate. Eccolo là. Perfetto. Scusate. Siccome sono in chiusura, però ne voglio riparlare anche con questi operaio. Ne voglio riparlare perché mi piacerà rivederli. Scusi che ho detto pisello sbiadito, ma mi riferivo al colore della camicia. Dica quello che ha dentro. Non c'è problema. Allora, mi dica anche il nome che Daphne me la ricordo. Mi dica, tiri fuori quello che ha dentro in massima libertà. Dada, come si chiama? A parte che mi chiamo Nico Vox, sono un pensionato, uno che ha lavorato 45 anni grazie alle varie riforme, dalla prima Dini all'ultima Fornero e compagnia Cantante. Purtroppo sentiamo a gogò le stronzate, scusami Sardone, ma ne dici veramente tante. Ne abbiamo fin troppo sopra i capelli, anche se io personalmente non ne ho. Mi pare che qui non si stia centrando il problema rispetto a quello che è questo tipo di lotta. Mirko mi pare che le ha collineate lungo l'arco, ma si sta sviando dal discorso. Perché? Credi che la soluzione Sardone sia la privatizzazione? Abbiamo mangiato insieme io e lei? Allora, dialoghiamo su questo, ammesso che sia un dialogo. Perfetto, perfetto. Capisco, no capisco che... Ma come si è un dialogo? No, un attimo. Allora, loro sono collegati con scarso preavviso, con un sistema che ci garantisce il collegamento, ma che gli fa arrivare la voce un po' dopo. Non possiamo fare un dibattito a distanza. Dieci secondi, però ho capito quello che ha detto il pensionato. Dieci secondi al portavoce, perché vi devo salutare proprio che ho finito il tempo. Dieci secondi al vostro portavoce, per favore. Regia, bravissimi, oggi anche nei collegamenti miei tecnici. Dieci secondi al portavoce, dieci perché vi devo salutare. Però ho fatto vedere a tutti quelli che mi stavano guardando che ci siete. Vai. Ho fatto vedere a tutti quelli che mi stavano guardando che ci siete. Vai. Guarda, noi vi ringraziamo. Ribadisco che quello che abbiamo fatto noi e che stiamo facendo noi non è solo per noi, ma è per tutti e a disposizione di tutti. Mettiamoci insieme e cambiamo le cose, perché così non vanno bene. Ti ringrazio. Ti ringrazio. Grazie ai lavoratori. Grazie anche ai tecnici miei che sono andati lì e hanno fatto un ottimo lavoro. Grazie, grazie a Carabella da Roma. Ci rivediamo in una prossima occasione. Grazie a Silvia Sardone. Scusatemi se mi interesso del lavoro di tutti e non solo di sette persone. Scusatemi se sono così miope. E grazie a Rota. Vorrei chiedere semplicemente a Silvia Sardone che è stata appena letta e al suo partito di impegnarsi per questa vertenza. Io sono nei confronti di tutte le persone che hanno problemi per quanto riguarda il lavoro e che avranno la volontà di contattarmi, perché io sono a disposizione di tutti i cittadini milanesi e perché no anche al di fuori della provincia di Milano. E quindi ti aspettiamo al presidio per sostenere anche questi sette. Guarda, ti do di più, il mio telefono è 339-610-0818, è a disposizione di tutti quelli che hanno problemi, mi chiamino e io sono a disposizione con atti concreti, non con le parole in campagna elettorale, perché ci sono sette giorni su sette, 365 giorni l'anno. No, no, domani telefoneremo la consigliera Silvia Sardone e l'inviteremo a occuparsi anche di questo, perché non vogliamo... Ma è così, non so se i vostri amichetti danno i numeri di telefono così. Il mio numero di telefono è quello ed è a disposizione in tutti i cittadini milanesi, non in campagna elettorale ma sempre, perché io sono stata appena stata eletta e per un po' di anni mi sta derogando questo problema. Bene, ci aspettiamo al presidio di via della casa 12 per occuparti di questi sette lavoratori. a tutti quelli che il lavoro nemmeno ce l'hanno e che non riescono ad arrivare alla fine del mese, ragazzi, perché dobbiamo pensare anche, se permettete, a quelle persone che secondo me sono la priorità di tutti, perché senza lavoro non c'è dignità e qua penso che su questo concordiamo. Ah, non c'è dubbio, ci occupiamo di tutti questi disoccupati tutti i giorni, quindi. Però ti aspettiamo al presidio. Grazie a Rota. Vedremo la concretezza delle parole. Grazie a Rota che ha festeggiato il compleanno con una pazza che le urlava nelle orecchie. Grazie a voi, grazie a voi. Vengo, ci vediamo domani, dimmi quando sei lì che vengo con te. Bene, intanto i lavoratori ritornano alla loro, le vediamo che ritornano e li ringrazio alla loro lotta. Chiamami domani. E noi subito dopo la pubblicità torniamo alla nostra di lotta. Grazie davvero alla mia squadra tecnica che ha seguito tutte le follie. Altri sei pacchi, se ce la faccio, dopo la pubblicità. Grazie a tutti.